Domenica 11 giugno Bari, Piazza del Ferrarese I migliori talenti musicali di Puglia e Basilicata sul palco per la finale del Gazzetta Music Contest Una grande sfida Un emozionante live show gratuito 9 finalisti Un super ospite, Francesco Saccina Ti aspettiamo domenica 11 giugno a partire dalle 19.30 in Piazza del Ferrarese Gazzetta Music Contest Facciamo sentire la vostra voce In collaborazione con Citycar, Scicaf, Cube Comunicazione, Azzurra Music